e ti saluto con la pace del signore ti auguro anche oggi una bellissima giornata venerdì 12 gennaio 2024 l'eterno ti benedica da sion l'eterno possa guardarti in quest'oggi nel tuo entrare e nel tuo uscire che dio benedica grandemente la tua vita e tutta la tua famiglia amen gloria al signore allora questa mattina vogliamo iniziare con una preghiera vogliamo chiedere al signore di preparare il nostro cuore per poter ricevere la sua santa e benedetta parola quindi voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e pregheremo il padre nel nome di gesù amen gloria a dio padre celeste dio nostro siamo contenti di poter ascoltare la tua santa parola anche oggi siamo contenti di poter ricevere da parte tua anche oggi il consiglio che ci verrà dal tuo cuore quindi vogliamo chiederti ti prego prepara il nostro cuore perché vogliamo ricevere questa parola ma non solo vogliamo anche metterla in pratica abbiamo bisogno di te signore quindi ti prego benedicici tutti quanti insieme nell'ascolto della tua parola e anche nella meditazione ti prego signore di consolare i cuori di quanti sono afflitti in questo momento ti prego di dare una parola di incoraggiamento a quanti sono scoraggiati signore ti prego di guarire da ogni malattia nel nome di gesù cristo come tu puoi fare signore perché a te nulla è impossibile signore ti prego di portare salvezza in quanti ancora non hanno ricevuto questa salvezza signore ti prego opera potentemente perché tutto quello che noi ti chiediamo te lo chiediamo nel nome di gesù benedetto in eterno amen amen dice così la parola del signore ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza prima che vengano i cattivi giorni e giungono gli anni dei quali dirai io non c'ho più alcun piacere testo che puoi trovare nel libro dell'ecclesiaste capitolo 12 il versetto 3 il titolo di questa meditazione biblica è questo la clessidra forse ci siamo soffermati a osservare una clessidra affascinati dalla sabbia che scorre in modo così regolare la nostra vita trascorre allo stesso modo non possiamo fermare il tempo che passa è dio che ci ha dato la vita la dose di sabbia della clessidra può rappresentare la sua durata sulla terra è un tempo determinato quanti giorni restano da vivere ad ognuno di noi quando la sabbia è tutta posta sul fondo la clessidra non si capovolgerà l'aldilà non ci permette di riprendere la nostra vita non c'è una seconda possibilità tutti gli esseri umani muoiono perché tutti hanno peccato davanti a dio e la cosa bella è che tutti dovranno incontrarlo come giudice o come salvatore il domani non ci appartiene la bibbia ci dice preparati a incontrare il tuo dio quindi non lasciamo che il tempo passi teniamoci pronti dio dice oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori dio ti ama e gesù è venuto per dare se stesso e pagare le nostre colpe quindi l'amore di dio e del figlio suo gesù cristo ti chiama a dargli oggi una risposta e solo tu puoi darla dio dice ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la mele e la maledizione scegli dunque la vita affinché tu viva questa scelta guarda che è urgente le conseguenze di un rifiuto o di un atteggiamento indifferente sarebbero terribili quindi vi supplichiamo nel nome di cristo siate riconciliati con dio amén